Anci Lombardia nell'ambito delle politiche europee e dell'interesse per le politiche europee ha realizzato a favore dei comuni, di tutti i comuni della Lombardia, un'interessante pubblicazione, una pubblicazione che è in formato elettronico, che è in ebook e quindi è reperibile sul nostro sito, una guida molto utile, molto pratica, devo dire, per cominciare a far orientare i nostri comuni verso il tema dei fondi europei, della ricerca dei fondi europei, della ricerca soprattutto dei fondi diretti. L'ebook ha l'interesse di fare capire innanzitutto l'argomento, insomma, e quindi di introdurre il sistema dei comuni della Lombardia in un progetto molto più strutturato che verrà presentato nelle prossime settimane, che è la Costituzione in ogni ambito provinciale del Servizio Europa di Area Vasta. Però ci vogliono competenze, ci vogliono competenze e queste competenze possono iniziare a formarsi appunto informandosi e formandosi attraverso questo strumento, ripeto, fatto molto 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 bene, che è il nostro ebook.